in primo piano rividi furbetti del cartellino in questura tra arresti un obbligo di dimora spesa ristorante slot machine invece di stare in ufficio la cronaca filtro d'amore da 100.000 euro una donna è stata truffata da sedi centi maghi nella valconca allarme e terrorismo sulle spiagge europee il sindaco di rimini dice non creiamo inutili allarmismi ed infine la possibilità per i vacanzieri di andare al mare gratis in treno per chi sceglie alberghi a riccione rimine cattolica ben ritrovati con la nostra informazione dunque questi principali titoli del nostro telegiornale in primo piano parliamo dell'operazione fuori orario portata a termine dalla squadra mobile di rimini al centro quattro impiegati della questura riminese considerati furbetti del cartellino perché invece di stare in ufficio andavano a fare la spesa con la moglie oppure andavano al bar o al ristorante di questi quattro impiegati tre sono ai domiciliari e un obbligo di rimora i particolari nel servizio anche ai rimini furbetti del cartellino e per di più in questura a smascherarli l'operazione fuori orario della squadra mobile coordinata dal sostituto procuratore davide ercolani si tratta di quattro impiegati negli uffici di via corso d'augusto tra questi anche un poliziotto con funzione di revisore tecnico oggi aggregato a bari tre sono ai domiciliari mentre uno all'obbligo di dimora gli impiegati timbravano e poi uscivano dagli uffici per andare al bar oppure a fare la spesa le indagini sono partite quasi per caso innescate da alcune intercettazioni legate all'inchiesta sul doppio colpo dell'estate 2014 al luxury watches di via garibaldi tra i telefoni controllati anche quello della moglie di uno degli impiegati furbetti gli agenti in ascolto hanno scoperto che in alcune conversazioni emergevano chi ha riferimento all'assenteismo hai fatto la fuga una delle frasi tra ottobre e novembre 2015 è emerso una percentuale di assenteismo intorno al 50 per cento le indagini sono state eseguite attraverso appostamenti pedinamenti uso del gps sulle auto soggetti spregiudicati e meccanismi truffaldini alcune delle parole usate dal gip casadè nel fascicolo sono 21 gli episodi contestati ad un assistente amministrativo in appena un mese e mezzo l'uomo arrivava al lavoro firmava l'ingresso le 8 poi usciva diretto al bar in una sala scommessa oppure a pranzo al ristorante e ancora a far la spesa con la moglie le assenze ingiustificate hanno prodotto un danno economico di 1940 euro a suo carico anche due episodi di falsificazione di certificati medici per lui oltre alla contestazione della truffa e della violazione dell'articolo 55 della legge brunetta che prevede la possibilità per l'amministrazione di allontanare il dipendente infedele c'è anche l'accusa di peculato tra il 2008 e il 2009 infatti era stato cassiere della mensa e aveva trattenuto per mesi i pagamenti prima di versare agli altri due impiegati forbeti del cartellino sono stati contestati 17 20 episodi di assenze non giustificate sembra meno grave invece la posizione del poliziotto con funzione di revisore tecnico a suo carico non figurano certificati alterati visto che si limitava a non firmare il foglio presenze in alcuni casi si allontanava lavoro per seguire il suo allevamento di cani e in un'occasione è stato sorpreso in giro mentre era in malattia oleificio pasquinoni all'avanguardia nell'impiego delle più moderne tecnologie che unite alla passione l'esperienza e l'amore danno vita ad un prodotto straordinario extra eco l'olio buono è di casa pasquinoni una goccia d'olio buono è una goccia di vita che nutre e previene oleificio pasquinoni nuova sede ma vecchie tradizioni oltre un secolo è passato dalla fondazione tanti cambiamenti sono avvenuti da quel 25 marzo 1911 ad oggi ma il suo spirito una banca fatta dalla gente comune per la gente comune è sempre lo stesso attento alla collettività e presente nel sociale banca di credito cooperativo di gradara per lo sviluppo locale la banca di casa tua torniamo con la cronaca andiamo in valcunca perché una donna è stata truffata da sedicenti maghi al centro un filtro d'amore dal costo di 100 mila euro i particolari nel servizio curato da marcello bartoli un filtro d'amore costosissimo messo a punto da un mago professionista preparato per riallacciare un amore diventato impossibile una storia come tante finita però con un gigantesco raggiro padre figlio e la convivente di quest'ultimo sono stati indagati dalla procura della repubblica dei rimini per aver truffato una donna residente a luino nel bar esotto che voleva aiutare la figlia a riconquistare il fidanzato che l'aveva lasciata c'era tutto l'amore di una madre è così che la signora si era affidata al sedicente professionista col cuore in gole la segreta speranza di ricongiungere l'affetto dei due giovani fidanzati vista la situazione di disagio la ferma volontà della madre premurosa il più anziano degli indagati residente a piacenza aveva così iniziato a spillare decine di migliaia di euro alla donna per le sue consulenze arrivando a farle credere di avvalersi anche della collaborazione di un fantomatico sciamano marocchino ma la storia non finisce qua a un certo punto fa irruzione in tutta la vicenda anche il figlio dell'uomo il sedicente mago residente a cattolica con la compagna dell'est europa una vecchia conoscenza delle forze dell'ordine tanto che era già stato arrestato e condannato a tre anni e sei mesi di carcere per aver truffato con le stesse modalità un uomo di mondovine il cuneese che aveva speso 83 mila euro per cercare l'affetto della moglie e a quel punto che il conto della malcapitata salatissimo e lievitato fino a raggiungere 100 mila euro così tra la disperazione e l'imbarazzo la donna di luina ha cercato di interrompere il rapporto con il terzetto bloccando subito il versamento delle parcelle ma queste hanno iniziato a minacciare la loro vittima spiegandole che se avesse interrotto i pagamenti sarebbe stata colpita da una maledizione voodoo e a questo punto che la signora ormai esausta ha deciso di rivolgersi ai carabinieri e sono scattate le denunce allarme terrorismo sulle spiagge europee in particolare in italia e spagna a scriverlo è un giornale tedesco il build che cita i servizi sereti italiani che hanno contattato quelli tedeschi terrorismo pianificato sulle nostre spiagge scrive il giornale in apertura secondo gli esperti della sicurezza travestiti da venditori ambulanti gli islamisti potrebbero farsi esplodere sulle spiagge dell'europa obiettivi concreti degli attentatori sarebbero le spiagge d'italia spagna e francia del sud le informazioni a riguardo arriverebbero dall'africa i terroristi sarebbero pronti a usare armi esplosivo fra lettino ombrellone scrive ancora build un alto funzionario della sicurezza tedesca ferma potrebbe darsi che in questo modo l'isis concepisca una nuova dimensione di terrore le spiagge non possono essere protette ma in ambiente di intelligence si valuta come destituita di fondamento la notizia riportata dal giornale tedesco le stesse fonti italiane sottolineano di non avere inviato alcuna informazione in merito alla possibilità che islamici travestiti da ambulanti possano farsi esplodere sull'argomento è intervenuto anche il sindaco di Rimini Andrea Gnassi che in una nota stampa ha bollato come allarmismo ingiustificato l'articolo del quotidiano tedesco un tempo ha commentato il primo cittadino si sarebbe detto non creiamo inutili allarmismo andiamo avanti un viaggio a piedi di corsa di 350 km per salvare l'ambiente che partirà sabato 30 aprile da San Benedetto del Tronto e si concluderà venerdì 6 maggio a Roma si tratta della seconda edizione di Keep Clean and Run pulisce e corri cuore dell'evento italiano dell'European Cleanup Day la campagna europea contro l'abbandono di rifiuti alla presentazione della corsa promossa dall'associazione internazionale per la comunicazione ambientale in collaborazione con il ministero dell'ambiente il 21 aprile a Roma saranno presenti anche due eco runner Roberto Cavallo e Oliviero Lotto che illustreranno in dettaglio le sette tappe e ora invece cambiamo argomento parliamo di economia e lo facciamo attraverso un report di Union Camere Emilia Romagna il quale dice che su tra le 30 grandi aziende più ricche ci sono 15 copp i particolari nel servizio curato da Alessio Bertini. Un mondo ben consolidato una forma di impresa che ha dato prova di essere resiliente alla crisi e che continua ad avere successo pratico infine per essere esportato in altre realtà ed ambiti i numeri infatti parlano chiaro ben 15 delle prime 30 società in Emilia Romagna sono cooperative a fare il punto sullo stato di salute della cooperazione emiliano romagnola e Union Camere in preparazione della conferenza regionale della cooperazione in programma al prossimo primo luglio ogni 100 imprese in regione 13 sono copp c'è 5151 con 264 1831 addetti ed un valore della produzione pari a 37 miliardi di euro un terzo del fatturato cooperativo italiano in termini numerici se guardiamo alla crisi le cooperative sono diminuite di 20 unità ma gli addetti sono cresciuti di quasi 10 mila segnando un incremento del 3,7 per cento le cooperative poi hanno vita più lunga l'11 per cento almeno 50 anni rispetto all'1 per cento del totale delle imprese e dopo un periodo di stallo dal 2010 la forma societaria cooperativa sembra aver ripreso quota c'è poi un altro dato che pesa secondo l'Unione delle Camere di Commercio 1,8 miliardi di euro è il valore delle esportazioni del 2014 mentre sono 239 le imprese esportatrici fare di Ravenna lo hub informatico dell'Europa l'Expo di Dubai 2020 la proposta arriva da Confindustria a Ravenna nel corso di una conferenza stampa nella quale l'associazione degli industriali ha presentato le sue proposte ai candidati alle elezioni comunali di giugno a lanciare l'idea Giuseppe Piccinini rappresentante del gruppo piccolo industria dell'associazione grazie alla grande centrale informatica realizzata dalla società Lepida nella zona artigianale Bassette spiega Ravenna può diventare il punto di riferimento informatico per l'Europa rispetto all'esplosizione universale di Dubai Ravenna deve essere la porta d'Europa verso l'Oriente Torniamo a Rimini il nuovo regolamento per l'assegnazione e la gestione di alloggi di edilizia residenziale pubblica supera anche l'ultimo esame ovvero quello del Consiglio Comunale che nella seduta di ieri sera è stato approvato definitivamente con 17 voti favorevoli, 3 astenuti e 2 contrarie. Con il nuovo regolamento si recepiscono le innovazioni legislative nazionali in materia fiscale relative nello specifico a Ise e Ise e quelle in materia di edilizia residenziale pubblica introdotte dalla nuova legge delle comuni e regioni in Emilia Romagna ma si apportano anche delle modifiche tese a uniformare si legge i diversi regolamenti locali attualmente vigenti nell'ambito provinciale. Tra le novità più importanti nel nuovo regolamento quella dell'introduzione di un punteggio ulteriore per un'anzianità di residenza di almeno 5 anni parallelamente si riduce da 5 a 3 anni l'anzianità di residenza necessaria per avere un punteggio aggiuntivo per gli anziani ultra settantenni andando così incontro alle famiglie che tengono in casa una persona anziana. E allora l'avete visto anche nei titoli la possibilità di andare al mare gratis in treno per chi sceglie alberghi che si trovano a Riccione, Rimini oppure a Cattolica. Vediamo. Come di consueto anche quest'anno il viaggio e il trasferimento in hotel per quanto riguarda Riccione, Rimini e Cattolica è gratuito a chi sceglierà il treno? Esattamente, un bel progetto, una bella e consolidata collaborazione tra l'amministrazione, l'associazione albergatori e Trenitalia. Ci credono molto, ci crediamo molto e quest'anno ancora di più rispetto agli anni passati e andiamo ad incrementare le tratte. Quindi avremo il Milano, Torino e Venezia tutti i giorni con una cadenza assolutamente interessante per l'incoming da queste regioni. Avremo anche però la possibilità di avere una fermata sul Roma, quindi sulla Ravenna Roma, che per noi è una grande novità ma nel contempo è di estremo interesse, essendo quel bacino molto interessante dal punto di vista turistico. Questo progetto conferma ancora una volta la visione strategica di Trenitalia che punta sempre più a integrare una piattaforma globale, il sistema dei trasporti ma anche le imprese private dell'ospitalità e le istituzioni pubbliche. Sì, è proprio così, ha compreso perfettamente qual è lo spirito di Trenitalia. Trenitalia vuole essere un aggregatore per favorire quello che è il tema dell'accessibilità che va a sostenere la domanda turistica. Credo che sia un'opportunità non solo per Rimini, Riccione, Cattolica, ma più in generale per tutto il paese. Ecco, ultimo ma non meno importante c'è il discorso ambiente, che viene sempre sottovalutato, ma il treno è il mezzo più ecologico che per il momento possiamo utilizzare. Ha detto bene, le do un dato. Roma-Milano in un anno con il Frecciarossa meno 600.000 tonnellate di CO2 in meno. Quindi questo è un dato che rappresenta la grande prospettiva per il paese. Più treno, meno fattori inquinanti, meno problemi sulle strade. Lo sapete bene qui sulla Riviera la mobilità su strada, quanto sia complicata durante i fine settimana. Quindi avere un sistema di offerta efficace, competitivo, qual è quella che abbiamo messo in piedi quest'anno sulla Riviera, credo che sia un'opportunità davvero per tutti quanti. lo è, dicevo, in particolare per questa zona d'Italia, ma lo è in generale su tutta la rete nazionale. Sì, è un'iniziativa che dà dei buoni risultati. Siamo arrivati all'undicesimo anno e quindi questo significa che veramente ogni anno c'è qualcosa in più che arricchisce il progetto in per sé, perché il progetto oggi prevede quello che può essere il rimborso della permanenza naturalmente sul territorio di Rimini, che viene in due modi. Avviene nella prima fase se uno si ferma soltanto una settimana, quindi soltanto con rimborso parziale a seconda delle stelle, cioè una o due stelle fino a 25 euro e tre o quattro stelle fino a 40 euro. Poi invece per chi si ferma due settimane il rimborso è dell'andata e ritorno del biglietto, sempre comprensivo al massimo delle 80 euro. Quindi questo è un attimino l'input che viene rimborsato da parte dell'albergatore al proprio cliente che arriva, quindi viene poi sottratto naturalmente dall'importo del soggiorno che viene fatto. È un'iniziativa quindi lodevole che ti permette comunque di lasciare la macchina a casa, arrivare sul territorio di Rimini, trovare su Rimini la possibilità di spostarti con i servizi naturalmente del territorio e poi a questo si aggiunge la carta vantaggi che è tutta una serie di convenzioni fatte sul territorio con delle scontistiche. Quindi è molto conveniente naturalmente per quello che riguarda la possibilità del turista di muoversi sul territorio con certe agevolazioni. Un calcio al martedì ben ritrovati. La Lega Pro subito perché mancava l'ufficialità ma adesso è arrivata. Il Rimini scende di due punti in classifica a penalizzazione attribuita alla società bianco-rossa dalla sezione disciplinare del Tribunale Nazionale Federale preseduto d'Artico per il mancato pagamento degli stipendi ai tesserati relativi alle mensilità di novembre-dicembre 2015. Il conseguente mancato versamento dei contributi IRPEF, il Rimini scende dunque a 33 a 31 punti in classifica. I punti di penalizzazione invece per gli stipendi non versate a metà aprile andranno a gravare sul prossimo campionato. Inibizione per un mese e venti giorni per il presidente Fabrizio Vemeise e per il direttore generale Angelo Palmas. Sul campo il Rimini continua a sperare nella salvezza diretta fondamentale del successo di sabato sera a Valentino Mazzola con il Sant'Arcangelo grazie al nonno centro stagionale di Polidori. Intanto fanno discutere le dichiarazioni del giocatore bianco-rosso FAL. Sentiamo Daniele Emanuele. Sotto la gestione Oseo pareva il salvatore della patria prima che tutto quanto fosse fatto volare per aria e venisse messo nel dimenticatoio. Addio amaro quello di Ametta e colori che forse più di tutti lui ama, addirittura forse anche più di se stesso. Il sorriso e gli scherzi lo hanno sempre contraddistinto, la bontà e il cuore altrettanto, prima di farsi nemico i suoi migliori amici. C'era qualcuno come Scotti che non digerì la sua fama di bravo ragazzo perché secondo altri non lo era. Troppo falso per saper eccitare, troppo vero per poterlo condannare. Allora via al saluto i tifosi con tanto di applauso richiesto nella sua ingenuità dopo un pareggino che fece infuriare non poco la tifoseria e il nostro opinionista Emanuele Pironi. L'addio annunciato prima Barletta e poi Ischia, un fallimento alle spalle nonostante la piazza calda pugliese e una nuova spiaggia ritrovata in quel di Ischia ma sull'isola non è riuscito a volare come Peter Pan e l'isola che non c'è ha rappresentato per lui i ritorni in Romagna dove tra piadine e sorriso i buon de Meis ha pensato bene di prendersela con il sottoscritto dicendo che un giocatore che aveva dato tanto per i colori bianco-rossi nel giorno della sua presentazione andava accolto come dio comanda, magari anche con musica senegalese a ritmo di tamburi con i leoni chiamati giornalisti a guardare con occhi spavaldi. Il gatto e la volpe potremmo definirli ma se di mezzo c'è anche il topolino a cori che con le dichiarazioni rilassate a tutta Liga Pro non li ha mai digerite si capisce perché Fall non abbia fatto parte dell'impresa di Sant'Arcangelo. Dovranno bastare 20 giorni, massimo un mese per recuperarlo mentre l'attesa è durata molto di più. Prima di Pasqua il debutto con la Lucchese, poi una manciata di minuti e una delle gare interne di quest'anno e poi più nulla. Caro Amet, con il sorriso e la simpatia che contraddistingue anche me, era proprio necessario fare quello sfogo personale su Facebook in una situazione che già tutti noi sappiamo com'è? Era così necessario indurre i giornalisti in questione a riportarlo alla stampa nazionale? Per di più qualcuno dei nostri colleghi locali come da copione ha copiato, incollato e riportato la notizia della serie. Guai a farmi scappare la notiziona anch'io, ma rimane da capire di quale notiziona stiamo parlando. Concludiamo con la frase riportata dall'attaccante Biancorosso. Non era questo il calcio che sognavo, incredibile, mi ritrovo dopo 9 anni che sono in Italia e 6 anni che milito nel calcio professionistico ad una situazione molto triste e poco incoraggiante. Squadre professionistiche che non pagano, gente che non sa fare calcio, non hanno né programmi né idee. Ogni anno mi ritrovo in una situazione simile o peggio di quello che ho già vissuto. Sono preoccupato per il calcio italiano e per la Liga Pro in particolare. L'unica cosa che è rimasta è la passione dei calciatori e dei tifosi. Il basket è nevesse informatica con un cuore immenso che batte Monsumano 99-87 in una sfida decisiva per i play-off. C'è voluto un supplementare per piegare la resistenza dei toscani, venuti in Romagna a fare la propria partita, ma gli uomini Bernardi hanno voluto a tutti i costi due punti. Trascinatori dei granchi Adrian Chiera con 34 punti. Il playmaker Lorenzo Panzini che chiude con 26 punti. Tutta la squadra però ha disputato una grande prova che ha rimbalzo, che in difesa con una menzione d'onore per Stefano Crotta, costretto ad uscire per una brutta botta allo zigomo rimediata nel finale. Adesso uno sguardo come di concetto la pallavolo, il punto della settimana sulle formazioni romagnole di Serie B affidato al collega Enrico Spada. Dolciari e Rovelli, Morciano 9, una vittoria che profuma di Serie B quella ottenuta contro il Villadoro Modena. Netta, meritata, ma in discussione. Un 3-0 che lancia i romagnoli a più sette sulla quintultima e che a tre giornate dalla fine significa promozione quasi certa. Una situazione impensabile anche solo un mese fa. Liverani, Castellani, Lugo 8. In una stagione dove tante squadre romagnole rischiano la pelle, in B2 femminile, la squadra di Benedetti ha chiuso il discorso salvezza con quattro giornate di anticipo al termine di una stagione lineare, magari con qualche rimpianto qua e là per alcuni punti lasciati per strada, ma anche con diversi risultati di prestigio. Libertas for Lee 8 non era facile ritrovarsi dopo la batosta con Bastia, soprattutto dovendo affrontare un derby contro un motivatissimo Cervia che aveva bisogno assoluto di punti salvezza. La Libertas però domina la sfida e mantiene il secondo posto, superando brillantemente uno degli esami più difficili. Clay Imola, sette e mezzo, demolisce con un secco 3-0 la Stella Rimini, compiendo tra l'altro una vera e propria impresa nel secondo set, rimontando da 9 a 18. Piomba sul gruppone delle squadre che si giocheranno la salvezza in queste ultime tre giornate, il calendario è tutt'altro che favorevole, ma a Imola c'è chi è esperto di rimonte impossibili. Battistelli sette e mezzo a Cecina serve un successo convincente che arriva puntuale. Se non è guarigione totale dalla bulia delle ultime settimane, poco ci manca. Prestazione convincente e tre punti che significano per ora playoff certi, in attesa che riposino le dirette rivali e che si possa ristabilire le gerarchie. Chiudiamo occupandoci di Maratona della Rimini Marathon. 5 mila persone tra appassionati e agonisti, naturalmente tante le famiglie che hanno preso parte domenica al Rimini Marathon. Evento sportivo è arrivato alla sua terza edizione che apre il ricco calendario di eventi sportivi dedicati al running e alla corsa che la città malatestiana ospita in primavera. per il secondo anno consecutivo a tagliare per primo il traguardo è stato il riminese Gianluca Borghesi con il tempo di due ore 34 minuti 30 secondi. Riminese è anche la prima donna. Federica Moroni che ha chiuso con il tempo di due ore 58 primi 55 secondi. Io mi fermo qua, vi ringrazio per averci seguito, vi do appuntamento a tra sette giorni. E infine la nostra consueta rubrica andiamo a vedere che cosa c'è nella borsa della spesa. Questa settimana sui banchi del mercato coperto di Rimini potete trovare nel reparto pescheria prezzi medi registrati salmone fresco 15 euro e 50 centesimi al chilo, sogliole nostrane 22 euro al chilo, canocchie da 10 a 12 euro al chilo, seppia 14 euro al chilo, lumachine nostrane 5 euro e 50 centesimi al chilo, vongole di Rimini 3 euro al chilo. E nel reparto ottofrutta prezzi medi registrati, radicchio 50 centesimi al mazzo, agretti e oliscari 50 centesimi al mazzo, fava 3 euro al chilo, fragole 2 euro al cestino, aspara e ginostrani 4 euro al mazzo, piselli 3 euro e 50 centesimi al chilo. Bene, con questo è davvero tutto, grazie e come sempre per la cortesa.